E ragazzi bentornati su Natural Echo, oggi siamo con un nuovo articolo, questa volta non parliamo di ambiente in realtà, però è una cosa di cui volevo discutere e di cui volevo leggere. Siamo sull'indipendente, oggi come vedete è sabato 7 ottobre 2023, questo è un articolo uscito il 3 ottobre, quindi qualche giorno fa. Torino, studente in piazza contro Meloni e Valditara, la polizia carica, quindi è quello che è successo a Torino per quanto riguarda le manifestazioni dei ragazzi contro l'esposizione di Meloni a Torino, di Meloni come di altri suoi colleghi di lavoro. Sappiamo che ci sono state delle violenze, quindi adesso vediamo un po' la questione. A Torino, i collettivi studenteschi hanno protestato animatamente contro le politiche del governo sulla scuola e il diritto allo studio, ricevendo in cambio le mancanellate della polizia. Ieri ho incortato i manifestanti, cioè quindi sappiamo comunque di che cosa si sta parlando, no? Perché questi ragazzi erano là per le questioni sull'istruzione, le difficoltà nel trovare alloggio, immagino ci siamo anche nel mezzo, io non ho visto nulla sulla questione a parte quei brevi video in cui si vede la polizia che carica i ragazzi, quindi ne so poco e niente. Vi sto informando adesso. Ieri ho incontrato i manifestanti, con in testa gli attivisti del centro sociale Ascatasuna di Torino, mai sentito? E' partecipato dai membri dei collettivi studenteschi OSA e KSA. E' partito dai Giardini Reali alla volta di Piazza Castello, dove in questi giorni si tiene il festival delle regioni delle province autonome, lanciando slogan contro il ministro, contro il ministro, ministro. Capisco che uno possa fare degli errori scrivendo un articolo, quanti ne faccio io? Ma non vengono revisionati questi articoli. Per esempio io quando scrivo una cosa su Word, forse sto esagerando, scusate, però quando scrivo qualcosa su Word, gli errori mi vengono segnalati subito. Cioè quindi mi stupisce che, poi, può darsi che sia normale, cioè mi immagino che ci sia una certa probabilità che questi errori comunque passino inosservati. Ma veramente ogni articolo ha errori di vario tipo, comunque. Ogni articolo che ho letto, comunque sia. Ministro dell'istruzione e del merito Roberto Valditara. dell'istruzione e del merito, in Italia. Che sono due cose che non esistono, è un po' tipo il ministro degli unicorni e di Babbo Natale. In Italia. Che gag. Risposta? È proprio una battuta. In risposta la polizia ha caricato in modo d'odore i manifestanti. Oggi nel capoluogo piemontese antagonisti universitari hanno animato un'altra manifestazione in vista dell'arrivo della premia a Rio Giameloni, sbarcata a Torino nella tarda mattinata. Anche in questo caso, in un centro città ancora più blindato, sono avvenuti aspri scontri, che hanno visto gli agenti caricati dimostrati. Certo, considerando la natura di Fratelli d'Italia, non facciamo finta di non sapere qual è la natura di quel partito. Questo è è abbastanza amaro, considerando la natura di Fratelli d'Italia. Leggere questo è abbastanza amaro. Diciamo che certe certe abitudini italiani rimangono. Comunque, sono dure a morire certe abitudini. Il corteo sfilato ieri per l'estate di Torino, partito alle ore 15, era aperto da uno striscine con la scritta né merito né talento. Soldi alla scuola e non alla guerra. Soldi all'istruzione, cioè, finanziare l'istruzione sono più che d'accordo. Non so che cosa intendano con non alla guerra. Probabilmente perché sono completamente ignanti sulla questione. spero non si riferiscano a... spero che non intendano la sospensione dei supporti all'Ucraina. Spero non intendano questo. Se intendano questo, sono in disaccordo. Sono d'accordo sulla parte dei finanziamenti della scuola, ma non aiutare l'Ucraina. se invece parlano di qualcos'altro, che ne so, tipo, non... non lo so. Non... non finanziare delle compagnie che speculano sulla guerra, casomai, potrei essere d'accordo su questo. Peso in più. Non lo so di cosa parlano, quindi... zitto. I collettivi studenteschi avevano anticipato via social la contestazione al ministro dell'istituzione, scrivendo Valditara non sei il benvenuto. E ci sta. Momenti di tensione si sono vissuti in via Po e via Principe Amedeo, dove gli studenti si sono scontrati con il cordone dei uomini della polizia, che hanno respinto ragazzi e ragazzi con scudi e manganelli. Respinto. Ripeto, non so esattamente quanto è stata la questione, però da quel che ho visto io è stata la polizia che ha attaccato. Non i ragazzi. E quindi più che respinto direi proprio aggredito o scacciato, non lo so. Perché respinto sembra sembra quasi che intendono dire che hanno reagito a un attacco iniziale, cioè che la polizia ha reagito a un attacco iniziale. Da quel che ho visto è stata proprio una cosa abbastanza impari, cioè la polizia che proprio ha dato il via all'aggressione. Comunque, i stessi attivisti hanno documentato, cioè, poi la questione della polizia. Io tendo a non sorprendermi più per quanto riguarda la brutalità della polizia, ma per un motivo molto semplice, a parte la marea di questioni che sono venute fuori per quanto riguarda appunto casi del genere, oppure le violenze contro i detenuti nel carcere, oppure i gruppi su Telegram che inneggiano al fascismo e vogliono la dittatura fascista in Italia, perché allora se era vero italiano, allora c'era ordine, c'era senso, robe allucinanti, diciamo che non mi sorprendo perché comunque le forze dell'ordine che hanno come scopo principale quello di, cioè, qual è il loro ruolo? È quello di mantenere uno status quo. Quindi sono per loro natura conservatori. È unito al fatto che per loro natura sono anche violenti, ma non violenti nel senso che gli piace proprio le violenze, nel senso che proprio il loro ruolo praticamente nella conservazione dello status quo è quello di applicare violenza quando teoricamente necessaria. Quindi sono proprio esposti al concetto della violenza e quindi è una cosa naturale per loro farne uso. Poi ci sono persone comunque anche in termini forse dell'ordine che sono abbastanza sensibili sul tema e quindi sono perfettamente che la violenza dovrebbe essere utilizzata soltanto quando necessaria e non quando cavolo ti pare. Come ho visto in questo caso. Stato di fatto che comunque direi che è più probabile che le persone che entrano a far parte di questo tipo di settore siano persone che hanno un certo tipo di approccio sulla violenza piuttosto che essere persone comprensibili del fatto che la che la violenza dovrebbe essere proprio un lato estremo e utilizzata proprio in caso non ci siano altre alternative. Cioè in realtà per assurdo cioè per assurdo in realtà è perfettamente logico nelle forze dell'ordine dovrebbero esserci soltanto persone che ponderano bene la situazione e che utilizzano la violenza soltanto come risorsa ultima cioè come l'ultima risorsa possibile e che fanno di tutto per evitare di utilizzarla ma sappiamo benissimo che non è così se non ci sarebbero tutti questi casi di violenza da parte dei forze dell'ordine o in Italia come anche all'estero pensate per esempio all'America comunque per dire che forse non avendo abbastanza controlli su chi entra in questo tipo di ambiente alla fin fine sia purtroppo normale che succedano queste cose perché le persone che ne fanno parte di questi di queste forze dell'ordine purtroppo hanno questo tipo di rapporto sull'uso della violenza hanno questo tipo di mentalità sia conservatrice che anche di easy going per quanto riguarda dalle manganellate e perlomeno chi prende le decisioni dovrebbe ben guardarsi cioè trattenersi dal dire andate e caricateli comunque i stessi attivisti hanno documentato gli scontri con una serie di video e meno male che gli attivisti monitorano cioè c'è qualcuno che controlla la situation oltre alle forze dell'ordine sennò rideremo tantissimo poi pubblicati in rete su momenti di disordine di ieri sono in corso le indagini della DGOS di Torino quindi siamo tranquillissimi si spera che facciano bene il loro lavoro oggi il corteo di protesta rimpolpato da circa 300 persone quindi comunque un nome abbastanza piccolino è partito da Palazzo Nuovo storica sede dell'università torinese i centri sociali e collettivi studenteschi universitari sono partiti portando uno striscione recante la scritta e me lo voglio a Torino non sarà benvenuta c'è anche questo l'area è intorno a Palazzo Carignano dove è arrivata la Presidente del Consiglio è stata chiusa anche ai pedoni dalle prime ore del mattino le nostre abitudini italiane le forze dell'ordine hanno inoltre bloccato gli accessi a via Po in via Principe a Medeo e poi in piazza Castello sotto la sede della prefettura la polizia ha sfoderato gli scudi e caricato gli attivisti ok quindi qui specifica che hanno lanciato uova quindi l'unica provocazione era l'uovo e poi le forze dell'ordine hanno risposto con una carica che scrive di potere abbiamo un messaggio per Melonia nulla dei manifestanti non è la benvenuta in questa città come una benvenuta una passerella per questi politicanti che stanno lasciando la gente affamata per le strade spacciandosi per chi vuole risolvere i problemi sociali ma tagliando fondi a tutti i servizi sociali la questione in Italia c'è capiscola la cosa della passerella la questione in Italia non è tanto la gente affamata ma tanto il fatto che questo governo come anche tutti i buttissimi precedenti da anni ha semplicemente protetto lo status quo dell'Italia in declino o ha aggravato la situazione cioè non mi aspetto di certo che un governo di destra faccia i salti mortali per diffondere i diritti fondamentali a delle categorie minoritarie cioè alle minoranze come gli omosessuali o gente di altre etnie diciamo che non cambia poi così tanto tra questo governo e quelli passati semplicemente si continua cioè quello che si fa è continuare a lasciare l'Italia nel suo destino continua in declino e chi se ne frega di base è questo di base è questo il vero problema non è la gente affamata per fortuna siamo in occidente e quindi i poveri vivono in una situazione molto migliore rispetto ai loro controparti nei paesi del terzo mondo questo va detto e meno male che è così a partire alle contestazioni è stato anche il collettivo cambia le rotta a partecipare scusate alle contestazioni è stato anche il collettivo cambia le rotta i cui componenti ieri ci sono incatenati alla mole antonelliana per protestare contro il caro affitti e la macelleria sociale messa in atto dall'esecutivo che viene il diritto allo studio dei giovani macelleria sociale quanto siamo bravi a inventare delle parole che non significano assolutamente niente macelleria sociale quindi per protestare contro il caro affitti quello che dicevo all'inizio quindi c'è pure questa cosa che è un problema è un problema dopo aver passato una settimana in tenda qua a Torino e su tutto il territorio nazionale come studenti in lotta per il diritto della casa e allo studio le nostre dimenticazioni non sono state accolte e non siamo stati nemmeno ascoltati appunto basta vedere le ultime dichiarazioni da Salvini è presidente di Confindustria la sacralizzazione della proprietà privata attacca e giù si è tacciati come nullafacenti piani casa a favore solo della borghesia palazzinara hanno scritto in un comunicato pubblicato su facebook borghesia palazzinara ma parla come comunque nullafacenti ci sarà chi è nullafacente e chi invece si impegna come anche per tutte quante le altre categorie all'interno di questo paese come all'interno del mondo comunque la questione del caro affitti purtroppo è un problema è una delle tragedie per così dire nel senso che non c'è una soluzione che risolve il problema a chi lo sta vivendo ora perché prima di tutto non è una soluzione creare nuovi dormitori all'interno delle città per un motivo molto semplice perché tu quanti posti letto potrai mai creare? 1000, 2000? 6000 ma gli studenti sono centinaia di migliaia in tutta quanta Italia se non anche di più non ne ho idea e alla sapienza so che superano tranquillamente le 20.000 unità perché semplicemente quando ho fatto la richiesta per Erasmus mi sono ritrovato 20.000 persone che avevano già inviato la loro proposta cioè la loro richiesta e non era neanche l'ultimo giorno per inviare la richiesta quindi dopo di me ci sono state chissà quante altre decine di migliaia di persone e purtroppo non è così che risolvi la questione perché cioè il problema è che le nostre università in Italia hanno una struttura di tipo l'Italia cioè proprio la loro conformazione come sono fatte è per un elitto quindi per poche persone mentre invece sono aperte a un pubblico molto più ampio ci sono tutti gli schiavi fiscali e meno male sono a favore di questo però il fatto di essere all'interno di grandi città in cui lo spazio è limitato è una cosa tipicamente elitaria ed è una cosa che non si applica a un'università aperta alla massa massa non in senso di spregiativo ma in senso proprio a un gran numero di persone quindi è ovvio che ci sia problemi con col trovare un posto per chi viene da fuori e i prezzi siano altissimi perché la richiesta per delle stanze è altissima cioè la domanda è altissima ma la disponibilità è bassa perché appunto in una grande città ci sono una marea di persone turisti eccetera eccetera quindi lo spazio di disposizione è veramente poco e io sono d'accordo con quello che diceva Boldrin su questa questa cosa semplicemente perché è l'unica risposta adeguata che mi sembrava avere un senso per cioè in questo tipo di situazione e cioè fare delle seconde sedie come le volete chiamare al di fuori delle grandi città in zone dove c'è poca gente questo non risolverà il problema nel presente ma lo risolverà nel futuro perché così si viene a creare tutta una nuova economia in queste zone dove prima c'era poca gente proprio a causa della nuova sede universitaria ci sono nuovi alloggi ci sono nuovi negozi nuovi ristoranti eccetera eccetera fai girare un'economia in un luogo dove prima non c'era lo spazio a disposizione è molto di più perché eviti il centro città turistico una maniera di persone che si spostano ogni giorno e quindi i costi possono essere più contenuti per gli studenti purtroppo gli studenti che vivono oggi cioè questo sarebbe un progetto che richiederebbe anni ok gli studenti che vivono oggi non vedranno questo problema risolto perché non lo risolvi nel presente né nella maniera che dice Boldrin che secondo me comunque è quella giusta da attuare per pervenire il problema nel futuro né con la costruzione di nuovi cioè di nuovi palazzi a disposizione per gli studenti nel centro città perché lo spazio è sempre limitato e la richiesta è sempre altissima e tu continui a fare pochissimo perché potrai permettere a pochissimi studenti di andare a vivere in queste nuove palazzine che rifai quindi è un problema abbastanza brutto per chi vuole vuole formarsi ci ritroviamo a non trovare casi da affittare per indisponibilità appunto appunto perché la risorsa è molto poca e i prezzi sono altissimi pur conoscendo benissimo il gioco dei palazzinari per aumentare l'offerta non c'è bisogno che non c'è bisogno che nessuno aumenti l'offerta i prezzi sono già altissimi guadagnano già benissimo così oppure ad affittarle a prezzi esorbitanti esclusi dagli esclusi dagli studentati o per mancanza di posti o per requisiti assurdi di merito nel senso che ovviamente da richieste altissime i posti sono pochi quindi che fai metti una sticella per poter entrare che è altissima le istituzioni dell'università al governo rispondono con soluzioni che altro non sono che specchi per le allodore certo ovvio è quello che facciamo da anni in Italia per ogni singola cosa non soltanto per quanto riguarda le istituzioni le rivendicazioni del collettivo sono chiare vogliamo la pulizione della legge 421 98 che non conosco a prima centro-sinistra che liberalizza la follia il mercato degli affitti e la reintroduzione dell'equo canone vogliamo un piano strutturale di investimento sull'edilizia universitaria pubblica vogliamo un tavolo permanente con miur mims e enti regionali per il diritto allo studio vogliamo l'esclusione dei privati dai fondi del PNRR non so se con piano strutturale di investimento intendo quello che stavo dicendo prima che aveva detto Boldrin quindi sto citando e se è così buono se invece dire prendete le palazzine al centro-città e rifatele a modo di dormitorio è un po' uno spreco dei fondi del PNRR in quel caso direi che abbiamo finito comunque ok si e questo era l'articolo purtroppo la questione sulla polizia temo che quello che ho detto sia valido purtroppo se i controlli sono di un certo tipo questo tipo di cose continueranno ad accadere con la frequenza che hanno sempre avuto anzi vorrei proprio vedere i dati sulla frequenza con cui avvengono cose del genere sulla brutalità della polizia in generale spero di trovarne in giro da qualche parte comunque fatemi sapere cosa ne pensate su quanto ha detto quanto abbiamo letto e noi ci vediamo in un prossimo video